Ci sarà anche la questione profughi al centro di Parma Europa domani sera in diretta alle ore 21. Dopo il ciclo estivo riparte il dibattito politico in diretta a TV con ospite tra gli altri il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Sui rifugiati arrivati anche a Parma e provincia la posizione di Pizzarotti è chiara. Oggi che questo gram ci colpisce quotidianamente, aveva scritto in occasione della marcia degli scalzi, abbiamo il dovere di anteporre l'umanità all'indifferenza. Quello che oggi spesso manca o è carente è proprio il sentimento di umanità. Tornare ad umanizzare la nostra società, piccola o grande che sia, aveva continuato il sindaco, vuol dire strapparla al cinismo, al menefreghismo, alla freddezza dell'indifferenza. Riprendiamoci questa responsabilità. I profughi, oltre che nel centro di prima accoglienza di Baganzola, sono alloggiati anche in alcune comunità e abitazioni nel centro di Parma. E questa sera alle 21, in Borgo Maria Luigia, alcuni residenti hanno organizzato un presidio in strada per dire no alla loro presenza, invito stampato in un volantino affisso nelle strade del centro storico che ha suscitato aspre polemiche. A Parma Europa domani sera non solo la questione immigrazione. Al centro del dibattito anche temi come welfare, assistenza ai disabili a scuola, raccolta rifiuti, sicurezza, decoro urbano, cultura e turismo. E ovviamente il futuro politico di Federico Pizzarotti. Domani sera, in diretta alle 21, a Parma Europa.